Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di ricotta al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, crema di pistacchi, granella di pistacchi, zucchero, aroma di vaniglia o estratto di vaniglia e scaglie di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la granella di pistacchi ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta. l'estratto di vaniglia ed azionare il bimbi per 40 secondi. A velocità 4. La crema è pronta. Trasferire in bicchierini di vetro e decorare con le scaglie di cioccolato. Crema di ricotta al pistacchio. Ideale come dolce al cucchiaio o per decorare torte crostate. Si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.